Noi abbiamo virato un po' su questo momento Ci sono le storie anche sul portale Ci sono le storie sul portale Potrete portare i vostri status No, le porte non ci sono Le storie perché non c'è personale Di servo Io faccio una cosa Perché ci vado quasi tutti i giorni Spedendo i dischi che mi compagno E mi è stato molto efficiente Grazie Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.